Buona giornata, la sigla è quella solita, inconfondibile, roccheggiante e appartenente alla redazione sportiva di Streaming Sport, il canale sportivo della casamadre www.venetoglobe.com, il programma si intitola Restart 26 settembre 2020, in cabina di regia Gigi Selvestrel, per quanto riguarda il sottoscritto in redazione Mirko Villanova per l'appunto, qui davanti a voi e poi troveremo nel corso del programma anche il tecnico Vincenzo Russo e l'altro nostro collega Flavio Cipriani per le interviste. E allora le interviste che sono andate a colpire una formazione che ha già iniziato la scorsa settimana il suo campionato di promozione ed è il Godega, un Godega che ha visto il ritorno in panchina di un allenatore che aveva fatto bene, benissimo, perché guadagnando la promozione non poteva che aver fatto bene ed è Cristiano Turchetto che poi ascolteremo. Ma prima di tutto andiamo ad ascoltare il bomber, nonché capitano Massimo De Martín ancora a Godega. Eccolo qui. L'esperienza al servizio della squadra per un torneo, numero? Il numero che faccio sarà il decimo, undicesimo, no a livello direttante è dal 2011, quindi sono dieci anni, il decimo sicuramente. In estate avevi deciso di mollare, poi questa volontà di rientrare, di mantenere una volontà che hai esaudito proprio in concomitanza del nuovo ritorno di Cristiano. No, sicuramente sì, avevo idea di smettere, però con l'arrivo di Cristiano mi ha fatto tornare voglia e quindi sono felice di essere rimasto di fare un'altra stagione qua sicuramente. Questo sarà il tuo ultimo anno o a un rinnovo di Turchetto sulla panchina del Godega rimarrà anche al trentottesimo anno? Speriamo che Turco alleni altri due o tre anni, quindi che mi porti con lui fino a quando ce la faccio insomma. Ecco, un passato al Milan, al Vicenza, tanti infortuni, poi è arrivata la San Giovannese, il tuo percorso da professionista come lo ricordi e qual è stato il momento più bello? No, beh sicuramente il momento più bello è stato l'esordine serie B con il gol alla Fiorentina. Dopo il mio trascorso professionistico passato, sì, è stato costato un po' di infortuni e sicuramente l'80-90% è stata colpa mia e le cose sono andate non benissimo. Quasi dieci anni nei direttanti, partendo da Fontana Freda in D, logicamente, è sempre un campionato molto importante per poi scendere pian pianino a Vittorio Veneto e arrivare qui a Godega. Di questo percorso sei soddisfatto o potevi puntare a qualcosa in più? No, io sono felicissimo di quello che ho fatto a livello dei dilettanti, perché comunque ho fatto quattro promozioni, ho fatto un po' di gol e dove sono stato, sono stato benissimo. Quindi sono felice di quello che ho fatto, di quello che spero fare quest'anno. Ecco, dopo 12 mesi, diciamo anche 17 mesi, ritrovi Cristiano Turchetto che vi aveva portato in un bel campionato, giocato gomito a gomito con il Cavartano in promozione. Certo, sì, no, ripeto, sono felicissimo, quell'anno è stato un anno bellissimo in prima categoria, abbiamo un gruppo, una squadra fortissima e sono felice che sia tornato, ripeto, perché dopo sono anche capitano, quindi se gli ho detto se non mi fai fare capitano non torno, allora lui si è dato la fascia. Nell'azienda di famiglia, un'azienda edile, parlate spesso di progetti, nel calcio si parla di pianificazione, l'obiettivo del Godega? No, beh, sicuramente è la salvezza il prima possibile, quest'anno ci sono 34 partite, sarà un anno duro per tutte le squadre, sono attrezzate, sarà una guerra ogni domenica sicuramente per portarvi a punti, quello dobbiamo fare, basta. Lo scorso anno, primo anno di promozione, avete avuto un avvio molto importante, significativo, un terzo posto in classifica guidato con grande autorità, nelle prime giornate poi c'è stata una fase calante molto importante. Sì, sicuramente siamo pariti benissimo, ma il campionato dura 30 partite purtroppo, io sapevo che ci sarebbe stato un momento di flessione, il momento di flessione o ne vieni fuori con carattere, se no rischi di andare piano piano verso il fondo e noi stavamo rischiando di andare verso il fondo, sicuramente. Da vertici alto della squadra, come hai visto i tuoi compagni nella depolizione tecnico-tattica in proiezione del campionato? Sì, no, beh, sicuramente sono stati presi dei giocatori importanti come Giovanni Martina, come Gagno, dopo ci sono i Marsonda, Rammellina, tutti quanti giocatori di categoria e i ragazzini adesso piano piano li vediamo e speriamo che crescano bene, insomma, in più di fretta possibile. C'è una sequenza di bomber molto over, diciamo, della Bianca, Ballarin, Vianello, poi Betz e anche Di Martín. Chi vincerà questa sfida a cinque? Di Martín? No, lo spero, dai. Io spero sicuramente che godessi i salvi, dopo se faccio 20 gol sono felicissimo perché sarei un'ipocrita a non dire così, però il primo obiettivo è la salvezza, dopo se faccio gol sono l'uomo più felice del mondo, si sa. Quindi l'obiettivo è arrivare in doppia cifra e chiudere la stagione e chiudere la carriera? Sì, chiudere la carriera non so, vediamo, faccio meglio che posso e dopo vediamo a fine anno cosa fare. La carriera non la chiude e basta? No, assolutamente, grazie mille. La chiude, non la chiude, secondo me non la chiuderà nemmeno il prossimo anno perché Massimo De Martini è uno che qualche golletto te lo segna e quindi la voglia rimane sempre. Poi insomma, finché uno segna e finché là davanti fa paura, è ben giusto che rimanga e che possa giocare, anche se l'età magari continua a crescere, ma noi glielo auguriamo. Allora, adesso parliamo con l'allenatore, adesso parliamo con Cristiano Turchetto, tutti hanno salutato con immenso piacere il ritorno di Turchetto a Godega e allora glielo abbiamo detto anche noi, sentiamo. Turchetto, amore sperticato, veramente, De Martini che se non venivi tu non veniva lui, insomma, bene, direi anche soddisfazione. Soddisfazione sì, beh, qua a Godega sono felice di essere tornato perché sembra un po' una frase fatta, però effettivamente qua è come essere in famiglia veramente, quindi dopo un anno difficile per molti motivi, calcistici, covid, non covid, è stata proprio la chiamata di Godega che mi ha fatto tornare a scattare la scintilla per ripartire con entusiasmo quest'anno insomma. Sei pronto con l'entusiasmo da tenere perché c'è Flevio Cibriani, adesso questo te lo smorza l'entusiasmo, stai attento, stai attento alla prima domanda, sentiamo. Parliamo in gergo ippico da vincente a Godega, piazzato in un buon torneo al QDP, poi spiazzato proprio con l'esonero. Ma allora, diciamo che mi sono dimesso io, purtroppo le cose avevano preso una piega, non stavano andando come mi aspettavo, dispiace tanto, soprattutto per la categoria che era una grande opportunità e anche perché comunque è la squadra del mio paese, quindi dispiace. Si sono incastrate due o tre cose che non sono andate verso giusto e ho preferito farmi da parte nella speranza che ci fosse una scossa, che purtroppo non c'è stata. C'è stata un'eccessiva pressione sul tuo operato, visto che arrivavi dalla prima categoria e non eri a conoscenza di questo torneo d'eccellenza? No, se devo dire la verità, no. È un'esperienza che comunque ti ha arricchito? È un'esperienza che mi è servita tanto, è stata molto impegnativa perché anche dal punto di vista orari, lavoro e tutto, l'eccellenza è una categoria molto diversa da come me la ricordavo da giocatore, è diventata una categoria non dico professionistica ma quasi e quindi ogni domenica era una battaglia con squadre attrezzate, con allenatori di un livello importante e sicuramente mi è servita. Sei ritornato a Godega con il sorriso ma non hai dimenticato le regole giallo-blu? Sono tornato a Godega con il sorriso sì perché qui ho passato due anni bellissimi colminati con il passaggio di categoria dopo una stagione giocata fino all'ultimo, anche oltre la fine del campionato perché col Cavarzano eravamo... L'ultima partita c'è stata quella tempesta che hanno recuperato la settimana dopo, oltretutto siamo arrivati anche in semifinale di Coppa, quindi torno qua molto molto volentieri e con molto entusiasmo. Ritrovi una squadra che ha conservato diversi elementi, cardine nel suo organico, hai avuto maggiore facilità nell'integrazione dei nuovi? Sì, sì decisamente, poi chiaramente dalla prima la promozione con il discorso della regola di fuori quota, per forza di cose bisogna cambiare molto per inserire i giovani. Ho la fortuna di ritrovare 4-5 giocatori dell'annata della prima categoria, un paio di ragazzi che sono arrivati li conosco già perché li ho già allenati, quindi dal punto di vista dei vecchi sicuramente parto un pochino vantaggiato. I giovani sono tutti da scoprire, non avendo il settore giovanile qui si va a pescare in giro, però qualche impressione positiva finora l'abbiamo avuta. Vi attende un campionato snervante, 34 uscite in una stagione che vi vedrà molto solicitate sul piano fisico. Sì, è una stagione che si annuncia lunghissima, difficile, molto impegnativa e tra l'altro dopo sei mesi di inattività si riparte, noi siamo partiti anche un pochino tardi per motivazioni nostre e della società. Avevamo programmato un determinato numero di amichevoli, poi salta la coppa, saltano le amichevoli, quindi domenica ci presentiamo, consapevoli che sarà molto molto difficile perché abbiamo fatto solo due amichevoli fino adesso e quindi tutto da scoprire. È un godega che soprattutto nel campo di casa concede qualche centimetro di troppo agli avversari? Oddio, l'anno scorso non lo so, non ero qui, quindi il campo di casa nostro deve essere il nostro fortino, lì dobbiamo conquistarci la salvezza. Poi se parli dei due anni che ero qua io, qualche battuta a vuoto l'abbiamo avuta, però insomma sono state di più le vittorie che le battute da resto. A livello di centimetri nel confronto fisico, visto che il campo ha una dimensione ridotta, quindi palle perse, palle recuperate, si rivide il portiere, vi manca qualcosa a centrocampo come struttura? Qualcosina, in mezzo al campo abbiamo Gilda, Giovanni Martina, Pigatti, Paolo Gagno, tranne Gagno, sono tutti piccolini, qualcosina sicuramente concediamo, speriamo di recuperare sicuramente dal punto di vista tecnico perché sono tutti giocatori validi e sono dinamici, quindi la metteremo da un altro punto di vista. Guardiamo velocemente la squadra, è uscito Celmanti che è andato all'Opitergina, un giovane, un under, hai recuperato però un portiere di qualità ed esperienza come Andrea Tonon. Sì, sono contentissimo dell'arrivo di Andrea, è un ragazzo che conosco, che ho voluto, lui è contento di essere qua e sicuramente sarà uno dei nostri punti di forza. Difesa robusta ma con qualche defezione? Difesa sono andate via due colonne come Casone Grillo, è arrivato dall'Armellina, un ragazzo su cui faccio molto affidamento, confido nelle qualità di Marson, nella speranza che possa giocare molto di più rispetto agli ultimi anni. Giovanni, Pigatti e Martina, un centrocampo molto dinamico? Molto dinamico, ci metto dentro anche Gilde che sì, in mezzo al campo sicuramente il nostro reparto se la giocano, sicuramente è il reparto dove siamo più attrezzati in mezzo al campo. Davanti invece De Martino l'abbiamo sentito però c'è ancora da vedere se questa sorpresa che avete avuto lo scorso anno sarà una conferma. Davanti De Martino lo scopro certo io, su di lui facciamo molto affidamento e confido che arrivi in doppia cifra anche quest'anno. C'è Bel Fatmi che con me giocava spesso dietro e qualche volta davanti, l'anno scorso ha fatto molto bene, è un altro punto di forza e poi c'è tutta la batteria dei 2001-2002 e tutta da scoprire. Bel Fatmi lo scorso anno è stato l'uomo che ha trainato la squadra con tanti gol realizzati non è arrivato in doppia cifra ma l'ha lambita, quindi sarà una riproposta offensiva anche questa dell'esterno? Sì, sì, almeno inizialmente sì. Sì, è un ragazzo che ha molta gamba, che vede la porta, che ha passo, sicuramente almeno inizialmente partirà davanti. Le amichevoli quali indicazioni ti hanno dato? Eh, come ti dicevo prima, purtroppo ne abbiamo fatte solo due, quindi molto molto poche. Quindi è stata una rotazione comune come tutti gli amichevoli? La rotazione, poi le altre tre che avevamo in programma sono state annullate perché era in concomitanza con i casi di positività Tarzo-Conegliano che ha colpito qua la zona nostra e quindi la società di comune accordo nostra con i giocatori ha preferito non fare altri amichevoli. Ecco, abbiamo sentito tanti tuoi colleghi, tutti puntano decisamente sul Treviso, ma ci sarà una sorpresa in questo torneo? Come lo avviene da anni? Beh, penso che sulla carta il Treviso sia sicuramente la squadra più attrezzata. Poi dopo, se devo dire la verità, ce ne sono molte altre che si sono rinforzate bene, vedi Fossalta di Piave, vedi anche le neopromosse come la Giulia che affrontiamo domenica e Limana, penso che sarà un campionato molto competitivo e molto livellato. Il nostro obiettivo è la salvezza e cerchiamo di raggiungere la prima possibile. Ciberiani si è spostato, vuol dire che ha finito e rimasto contento. Io guardavo l'allenamento con De Martin sempre davanti a tutti quanti a spostare addirittura le porte, ma quanto è importante, perché i giovani, abbiamo parlato di giovani che sono importanti, ma quanto importante è avere delle persone così, dei vecchi tra virgolette così? È fondamentale perché loro sono da esempio e poi quando ci parli insieme capisci le categorie in cui hanno giocato e li vedi come dici tu, portare la porta, portare dentro il materiale, tutte queste cose qua, deve essere un esempio e uno stimolo in più per i ragazzi giovani. Cristiano ti auguro tranquillità perché abbiamo vissuto un anno dove la tranquillità non ce l'avevi, qui so che la potrai avere. Grazie. È un saluto con il sorriso a Cristiano Turchetto, noi siamo in pratica reduci già dalla prima giornata di campionato per quanto riguarda la promozione e non è andata bene al Godega che in casa ha perduto contro lo Iulia Sagittaria per 4-1, mi pare se non erro, tra l'altro lo Iulia confermandosi anche con due gol di Della Bianca. Per quanto concerne i nostri appuntamenti, ritorneranno ancora con Restart 26 settembre 2020 su Streaming Sport su venetoglobe.com, potete trovare il tutto in modalità on demand e in versione podcast appunto per quanto riguarda questi nostri programmi. Vi auguro una buona giornata, concludiamo qui, Mirko Villanova in studio, Flavio Cipriani che abbiamo sentito con le interviste, poi i nostri tecnici Luigi Gigi Selvestrelle e Vincenzo Russo, a tutti voi buona giornata.